Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale! Indovinate di che cosa parliamo su questo video? Eh già l'avete letto nel titolo! Del cammino materano! Per chi non lo sapesse io ho un canale telegram dove inserisco tutte le tracce gps dei cammini italiani trovate tutti i link di dovere in descrizione qui trovate la playlist dove ci sono gli altri cammini italiani della quale ho parlato nel mio canale e oggi tocca al cammino materano Il cammino materano non è un semplice cammino come quelli che abbiamo già visto nel canale ma è un insieme di itinerari che sono ancora in fase di realizzazione Stiamo parlando di sei cammini che convergono tutti nello stesso punto o iniziale o finale del cammino che è la città di Matera che con i suoi sassi è patrimonio unesco dell'umanità e gli itinerari si snodano tra Puglia, Basilicata, Campania e Molise e verranno completati circa 2000 km di trekking dei quali 450 circa sono già segnalati e percorribili oggi Questi itinerari sono la via Peuceta da Bari a Matera la via ellenica divisa in terra degli olivi e terra delle gravine la via Sveva da Trani a Matera la via Ionica da Leuca a Matera la via Lucana da Matera a Paestum e la via Dauna da Termoli a Matera Attualmente sono percorribili solo due di queste sei vie che sono la via Peuceta e la via Ellenica il mezzogiorno a differenza del nord Italia che è attrezzato con tantissimi cammini da percorrere si sta attrezzando solo in questi ultimi anni e sono poche le vie che sono percorribili tra cui la via Francigena del Sud che penso sia quella più famosa in questa fase di realizzazione di nuovi percorsi per creare appunto un nuovo tipo di turismo per portare il turismo lento nel Sud Italia si è voluto creare questa rete di cammini che sono appunto tutti i vari cammini materani e questo progetto è stato ideato e registrato dall'associazione In Itinere APS nasce con uno scopo ben preciso ovvero quello di portare il turismo lento nel Sud Italia come vi dicevo ci sono due cammini percorribili su sei che sono la via Peuceta e la via Ellenica oggi andremo a parlare di questi due qua la via Peuceta si snoda da Bari a Matera per un totale di circa 170 km dividibili in 7 tappe mentre la via Ellenica sono 290 km tutte e due le vie messe insieme dividibili in 15 tappe quindi la via Peuceta si può percorrere in circa una settimana mentre la via Ellenica si può percorrere in due settimane la via Peuceta parte dalla bellissima Bari e precisamente dalla Basilica di San Nicola che è uno dei luoghi simbolo della religiosità in Puglia da qui lungo le strade medievali si passa attraverso la chiesa di San Felice e si giunge a Bitetto per poi attraversare le foreste di olivi che conducono a Cassano delle Murge da Cassano poi ci si immerge nel Bosco della Mesola per poi continuare tra creste rocciose, cavità carsiche, dolci pendii fino a Sant'Eramo in Colle e poi fino ad Altamura ricca di testimonianze storiche a partire dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta del 1232 è famosa per il tipico pane cotto in forno di pietra infine passando per il punto panoramico della Madonna della Stella e il santuario benedettino di Picciano si arriva con l'ultimo tratto a Matera la via Ellenica invece si divide in due la terra degli olivi e la terra delle gravine questi sono i due nomi dei percorsi che compongono poi la via Ellenica e si parte dal percorso la terra degli olivi precisamente da Brindisi che è uno dei più importanti punti di imbarco per la terra santa all'epoca delle crociate si passa attraverso la piana degli olivi che custodisce i più antichi tra gli olivi pugliesi poi i pellegrini vengono accolti dalla bellezza del centro storico di Ostuni e dopo Ostuni si prosegue tra parchi archeologici e foreste di olivi per poi attraversare il paesaggio tipico della valle d'Itria con i suoi muretti a secco e i trulli ed è proprio nella terra dei trulli che si cammina l'ultima parte di questo cammino visitando naturalmente Alberobello da Alberobello poi si arriva a Martina Franca gioiello d'arte barocca e da qui comincia la seconda parte della via ellenica ovvero la terra delle gravine lasciata Martina Franca si prosegue nel silenzio dei boschi di querce della riserva naturale delle murge orientali e poi nel bosco delle pianelle all'interno della gravina del vuolo da Crispano poi si entra nella terra delle gravine che sono i canyon carsici caratteristici di quella zona e poi infine si arriva a Matera il cammino materano è possibile percorrerlo sia a piedi sia a cavallo sia in bicicletta in bicicletta però consigliano di seguire la loro guida ufficiale per leggere precisamente dove prendere delle deviazioni che evitano magari dei punti più complicati da passare in bicicletta oppure si possono scaricare le tracce gps e seguire le tracce gps che tra parentesi trovate già nel mio canale telegram il link è sotto in descrizione esistono anche le credenziali di questo cammino è un cammino pellegrino vero e proprio le credenziali infatti oltre a testimoniare lo status di pellegrino ci consente l'accesso a delle strutture ricettive oppure degli ostelli che sono presenti nel cammino e che sono dedicati appunto ai pellegrini del cammino materano grazie alla credenziale si potrà godere di uno sconto sia per l'alloggio che per alcune strutture di ristorazione che aderiscono all'iniziativa puoi richiedere la credenziale registrandoti al sito ufficiale del cammino materano che ti lascio sotto in descrizione per comodità l'unica cosa è che due giorni prima del tuo arrivo a Matera ovvero la fine del cammino dovrai contattare il comitato cammino materano per avvisare appunto della tua data prevista di arrivo a Matera una volta arrivato a Matera presentando appunto la credenziale testimoniando il tuo passaggio nelle varie strutture con i timbri ti daranno ti consegneranno il testimonium del cammino materano l'applicazione di questo cammino non esiste ancora esiste però il sito ufficiale fatto no bene meglio spiegato in qualsiasi dettaglio quindi vi lascio direttamente sotto in descrizione il loro sito ufficiale poi potete andare a consultarlo voi e c'è anche una guida cartacea se volete avere qualcosa di cartaceo e fisico da consultare mentre siete in viaggio il periodo migliore per percorrerla è in autunno inverno e in primavera perché ovviamente in estate le temperature sono talmente tanto alte torride fa talmente tanto caldo che prendi fuoco se non hai un ombrello no scherzo non lo so però c'è sì essendo in sud Italia è molto difficile affrontare un cammino con temperature alte quindi loro consigliano appunto di affrontare il cammino o in autunno o in inverno o in primavera la segnaletica che si trova nel territorio è presente circa ogni 300 metri di cammino è gialla e verde ed è spesso accompagnata dalle due lettere C e M che stanno per cammino materano ed una spiga divenuta simbolo del cammino materano concludiamo sempre con le nostre bellissime accoglienze come vi dicevo prima le credenziali ci permettono di avere delle scontistiche sulle accoglienze e non solo anche sui ristoranti quindi vi lascio direttamente tutte le informazioni sotto nella descrizione gli organizzatori hanno infatto previsto lungo il cammino materano per il pellegrino che presenta la credenziale un soggiorno a prezzo ridotto sia in ostelli sia in bed and breakfast è prevista anche l'ospitalità da parte di centri religiosi e famiglie per entrare meglio nella cultura nello spirito del luogo inoltre cosa molto 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 interessante in ogni tappa è possibile prenotare il menù del pellegrino bene ragazzi siamo arrivati alla fine del video spero che vi sia stato utile se avete qualsiasi altra domanda non esitate a farmela nei commenti iscrivetevi al canale se volete avere altre informazioni riguardanti i cammini italiani e fatemi sapere se avete già percorso il cammino materano ovvero la via peuceta oppure la via ellenica una delle due perché sono molto curiosa di sapere come sono questi cammini poi percorsi una volta percorsi perché secondo me Matera è una delle città più belle che abbiamo qui in Italia quindi non vedo l'ora di farli anch'io e vorrei sapere da parte vostra se per caso le avete già fatti che esperienza avete avuto il video si conclude qui e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi